L'incompletezza del titolo in fondo è sia un teorema matematico logico, il teorema di Giedel con il quale appunto ha buttato all'aria duemila anni di logica occidentale e d'altro canto è anche la metafora sia emotiva del personaggio sia politica del nostro paese, un paese ancora si ritrova a vivere con questi cadaveri insepolti che affiorano nella nostra storia dal memoriale Moro al G8 di Genova allo stragismo, un po' come se ci fosse una persona sconosciuta che si avvicina e ti dice che nonostante tutto questo va tutto bene e tu non sai che vuol dire però sai che è vero e ci segredi in qualche maniera